Nelle Marche, secondo il Gores, sono stati riscontrate altri 47 casi di positività al coronavirus su un numero record di tamponi esaminati in 24 ore, cioè 1.453. I contagi si avviano così a superare quota 6.000 nella regione dall'inizio dell'emergenza Covid-19. 5.924 casi positivi a fronte di oltre 30.000 test eseguiti. Aumentano i casi di isolamento domiciliare a 7.933, mentre i dimessi e guariti aumentano sempre più. Attualmente sono 1.849, tra questi nel Fanese è risultato negativo al doppio tampone dopo un lungo periodo di quarantena anche il segretario del PD di Fano, Alberto Bacchiocchi. Dai primi sintomi sono passati circa 40 giorni, tutto è iniziato il 13 di marzo, da lì i primi sintomi, poi la febbre, quindi una decina di giorni con i sintomi forti e acuti. Poi è cominciata un po' la fase post-acuzia, però in realtà la malattia è stata per 8-9 giorni. Dura, intensa, ma ha durato non tantissimo. Come hai vissuto questi giorni di isolamento? Eh beh, sicuramente io posso dire di essere in qualche maniera fortunato, perché comunque avevo la possibilità di stare nella mia camera, con il mio bagno e la mia famiglia aveva la sua camera e quindi insomma in condizioni abbastanza agevoli. È stata più che altro una preoccupazione per il mio stato di salute, più che per la difficoltà di stare in isolamento. È ovvio che al quarantesimo giorno di stare da soli dentro la stanza diventa difficile per chiunque. Si sente di rivolgere un consiglio a tutti coloro che attualmente sono contagiati e ancora non hanno debellato il virus? Il consiglio e l'appello che voglio fare innanzitutto a chi ancora adesso è un po' restivo a rispettare le regole, anche se la maggior parte delle persone lo sta facendo, però vedo che tante persone stanno scalpitando per tornare. Però io vi posso assicurare che è una malattia difficile, non è una malattia, non è una semplice influenza. Sono anche chi come me l'ha vissuta non in maniera particolarmente grave e questo grazie anche alle terapie precoci che ho avuto, che poi magari potrò anche spiegare meglio. È comunque una malattia, è un virus veramente difficile. Ti debilita, ti dà tanti dolori, molta difficoltà anche a stare in piedi. Perché io ho avuto una terapia precoce, io dopo due giorni dall'insorgenza dei sintomi, che erano forti, acuti, io ho cominciato subito la cura con gli antivirali. E questo mi ha permesso, questo famoso ad esempio Placenil, clorochina, mi ha permesso, credo, di limitare i danni di questo virus. Bacchiocchi ha voluto poi lanciare due appelli rivolti a comune e regione. Io chiedo al comune di Frano, e in qualche maniera hanno già iniziato, ma vorrei che per tutto il periodo in cui le mascherine saranno obbligatorie, di metterle a disposizione di tutta la cittadinanza, a un prezzo calmerato, a prevedere una compartecipazione col cittadino. Mentre l'altro appello, che lo faccio alla regione, è di incrementare ancora di più queste USCA, queste unità domiciliari, dove al momento noi sulla nostra provincia abbiamo quattro unità.